Roma nasce ufficialmente nel 753 a.C., anno nel quale un leggendario re di nome Romolo avrebbe fondato la città, che avrebbe poi in seguito dominato il mondo. Il misterioso personaggio aveva un fratello di nome Remo, che perse la vita e il confronto per la supremazia del territorio della nuova città contro Romolo, che secondo il poeta Virgilio sarebbe un discendente di Enea, come scritto nel poema epico Leneide. Enea era un troiano fuggito dopo la caduta di Troia, che vagò, secondo Virgilio, nel Mediterraneo, alla ricerca di una nuova patria e una nuova terra sulla quale fondare una città, che avrebbe dominato il mondo, e quella città sarebbe stata poi Roma. Roma ebbe sette re, Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Ancomarzio, Tarquinio Prisco, Servo Tullio e Tarquinio il Superbo, gli ultimi tre di origine etrusca, tradizione che viene a coincidere con il secolo di dominazione etrusca della città, che ebbe termine nel 509 a.C. con la cacciata dalla città dell'ultimo re Tarquinio il Superbo. Da quel momento Roma non avrà più re e verrà instaurata una repubblica, nella quale vi saranno oltre al Senato altri organismi politici, con diverse funzioni, una sorta di ripartizione dei poteri, che doveva assicurare libertà da pericoli di nuovi tiranni o personaggi nostalgici della monarchia. Tra i vari organi ricordiamo il Senato, composto dai patrizi, cittadini di alto ceto sociale, contrapposti ai plebei, che invece appartenevano alle classi sociali più basse. Ricordiamo tra gli altri anche i tribuni della plebe, che rappresentavano gli interessi del popolo, i consoli, che duravano in carica un anno e avevano il comando dell'esercito, i dittatori, che per determinati periodi straordinari di necessità e d'urgenza, accentravano su di loro tutti i poteri, ma solo per un periodo determinato, e tra gli altri ricordiamo anche il Pontefice Massimo, che era per i Romani la massima autorità religiosa. Principalmente il Senato aveva il compito di consigliare le altre cariche, come ad esempio i consoli, su questioni delicate e importanti. Tarquinio il Superbo, cacciato da Roma, tentò in vano di riprendere il potere, prima chiese aiuto al re etrusco Porzenna, ma dopo il coraggio di Muzio Scevola, che mise la mano sul fuoco colpito Porzenna, tolse l'assedio da Roma, e poi Tarquinio il Superbo chiese aiuto al genero latino Mamilio, questa volta tentando in prima persona di sconfiggere i Romani, guidati da Aulo Postumio, che nella battaglia del lago Regillo riuscì a sconfiggere definitivamente Tarquinio il Superbo nel 496 avanti Cristo. Col passare degli anni Roma divenne sempre più potente e inevitabilmente venne a scontrarsi con la rivale etrusca Veio, che dopo anni e anni di guerra cadde nel 396 avanti Cristo, ad opera del condottiero Furio Camillo. Poco dopo i Romani subirono il sacco dei Galli con Brenno, che vennero poi sconfitti da Furio Camillo. L'evento segnò molto i Romani e fu epocale, tanto che passeranno 800 anni prima che Roma verrà violata nuovamente nel 410 dai Visigoti di Alarico. Sempre nel IV secolo avanti Cristo i Romani saranno particolarmente impegnati contro i Sanniti per il predominio dell'Italia centro-meridionale. I Sanniti sconfiggeranno diverse volte i Romani, che a loro volta otterranno diverse vittorie, e impressa nella storia vi è certamente la sconfitta romana nella battaglia delle Forche Caudine, nella quale i prigionieri romani subirono l'umiliazione del gioco della Forca. Tuttavia i Sanniti subirono delle sconfitte decisive, la prima in coalizione con i Galli ed Etruschi nel 295 avanti Cristo, nella battaglia del Sentino, mentre l'altra battaglia veramente decisiva fu quella persa nel 293 avanti Cristo ad Aquilonia. La vittoria romana fu inevitabile e a quel punto gli ultimi Sanniti si arresero nel 290 avanti Cristo. Subito dopo il re epirota Pirro provò a galvanizzare le città della Magna Grecia e con i suoi elefanti Pirro si apprestò a dar battaglia ai Romani. Il re ellenico epirota ottenne alcune vittorie che non ebbero però effetti determinanti sulla campagna militare, da qui il detto vittoria pirrica, una vittoria praticamente inutile. L'inefficacia della sua campagna antiromana toccò l'apice presso Maleventum, vicino alla quale i Romani ottennero la loro vittoria decisiva, sconfiggendo il re e la località da Maleventum venne rinominata Beneventum, proprio per ricordare l'importante vittoria ottenuta contro il re epirota che lasciando l'Italia pare che disse che grande campo di battaglia che sto lasciando e che si sta preparando, facendo chiaro riferimento all'imminente conflitto che di lì a poco avrebbero combattuto Romani e cartaginesi per la contesa della Sicilia, la prima guerra punica. Roma sottomise anche le varie città della Magna Grecia ed era divenuta una potenza dalle risorse infinite, proprio grazie alle molte acquisizioni e municipalizzazioni di ricche città italiche, etrusche e magno-greche e la Sicilia, oltre che ricoprire un ruolo geograficamente strategico e importante, era una terra altrettanto ricca e ricca di città greche e pertanto contesa dalle due superpotenze che si affrontarono soprattutto sul mare. I Romani inizialmente soprattutto sul mare non avevano la stessa capacità dei cartaginesi che poterono contare su navi straordinarie che Roma dopo la cattura di alcune di esse tentò di imitare. I Romani dotarono le loro navi di un'arma micidiale, il Corvo, una passerella dotata di un gancio che andava ad agganciarsi con la nave nemica, così da permettere ai Romani quasi di poter combattere come sulla terraferma, luogo nel quale erano formidabili, ma nonostante questo i cartaginesi furono temibili e tennero testa e solo la battaglia delle isole Egadi risolse la contesa nel 241 a.C. a favore dei Romani, dopo un conflitto durato ben 23 anni che fruttò a Roma il possesso di Sicilia, Sardegna e Corsica. Tra la prima e la seconda guerra punica Roma si trovò a combattere contro i Galli che occupavano gran parte dell'odierna Italia settentrionale. I Galli in un primo momento tentarono il colpaccio attaccando sul territorio romano con l'intento di invadere la città ma vennero duramente sconfitti e intercettati a Talamone nel 225 a.C. presso Clastidium. I Romani sconfissero nuovamente i Galli e questa volta ottennero anche il possesso dei territori gallici dell'Italia settentrionale, ma le battaglie non erano finite. Il condottiero Annibale, il condottiero e stratega cartaginese considerato da molti il più grande di tutti i tempi, fu artefice e protagonista di altri 14 anni di guerra contro Roma che passarono alla storia come seconda guerra punica, una guerra iniziata in Spagna, territori dai quali il condottiero marciò in direzione di Roma in compagnia di elefanti e alleati Galli. Entrato nella penisola italiana Annibale inizia ad ottenere vittorie schiaccianti una dietro l'altra sul Ticino, la battaglia della Trebbia, la battaglia del Trasimeno, ma la più clamorosa di tutte fu la battaglia di Canne nella quale l'esercito romano venne annientato in quella che verrà ricordata come la peggiore sconfitta romana di sempre anche perché subita su suolo italico. Per molti generali cartaginesi a questo punto la presa di Roma è un gioco da ragazzi ma Annibale desiste, il generale cartaginese Marbale biasima il suo capo dicendo che egli era un grande ma che non sapeva sfruttare le vittorie a suo vantaggio. Fatto sta che il punico preferì una tattica di logoramento e giochi di alleanze, persuadere le città magno greche e italiche, isolare Roma e imporle una resa, complice anche a un numero limitato di truppe, elemento che certamente influì sul comportamento attendista di Annibale che attese in vano rinforzi che sarebbero dovuti arrivare nel 207 a.C., anno nel quale le truppe cartaginesi di rinforzo si sarebbero dovute congiungere con Annibale. Il fratello di Annibale verrà sconfitto dai Romani e non riuscirà a raggiungere Annibale e i Romani nel frattempo erano riusciti anche a prendere Siracusa in un assedio nel quale il più grande matematico e scienziato della storia, Archimede, troverà la morte. Fra i principali artefici della resistenza romana troviamo Fabio Massimo Verrocoso e Marco Claudio Marcello, ma soprattutto Scipione, che provocherà in battaglia Annibale sul suolo cartaginese, costringendo il condottiero a rientrare in patria, nella quale Azama verrà sconfitto da Scipione, che diventerà Scipione l'Africano nel 202 a.C. Questa vittoria pose fine alla Seconda Guerra Punica, che si concluse con l'annessione di molti territori punici alla Repubblica Romana e soprattutto con un trattato sfavorevole della città di Cartagine, che verrà ridimensionata in termini di potenza militare e politica. Nel frattempo Roma si appresta in maniera significativa ad imporre la propria supremazia nell'Egeo e nei territori ellenistici, nei quali i sovrani macedoni tentano in vano di opporre resistenza, ma a Pidna, nel 168 a.C., i romani ottengono una vittoria decisiva, che pone fine alle guerre macedoniche e assicurò nuovi territori ai romani. Le guerre sembrano non finire mai, tanto che nel 149 a.C. il senato romano trova il pretesto per attaccare Cartagine, che a quanto pare aveva violato a detta dei romani il trattato di pace. In particolare il senatore Marco Porcio Catone passò alla storia per la famosa frase che pronunciava continuamente, Cartago delenda est, Cartagine deve essere distrutta. Così Roma dette inizio alla terza guerra punica, assediando e distruggendo Cartagine nel 146 a.C., che venne ricostruita con caratteristiche peculiari delle città romane. In politica interna si fecero strada in particolare due fratelli, i Gracchi, che tentarono di introdurre delle riforme volte a favorire le classi più deboli, che miravano ad una più equa ripartizione dei terreni a favore di cavalieri e plebei. Ma tempo dopo i fratelli Gracchi vennero uccisi e più o meno in questo periodo, secondo molti storici, si iniziarono a mostrare i primi segnali della crisi del sistema repubblicano. Crisi che si mostrerà ancora più evidente nell'importante fase storica successiva, nella quale vi sarà un dualismo tra due personaggi, uno di questi è Gaio Mario, il quale riformerà l'esercito rendendolo ancora più professionale ed efficiente e che ottenne due vittorie decisive contro grandi masse di popoli germanici penetrati sul territorio romano. Come vedremo il dualismo sarà adesso una prerogativa degli importanti personaggi politici e militari romani. Ma torniamo un attimo indietro. Mario ottiene importanti vittorie contro Giugurta in Africa che pacificheranno il Nord Africa, ma nel frattempo dal Nord Europa 300.000 fra donne, uomini e bambini abbandonarono le loro terre di origine penetrando sul territorio romano. I romani subiscono una serie di sconfitte, fra le quali la peggiore in assoluto in termini di vite umane, oltre centomila soldati caduti in battaglia ad Arausio. Fu Gaio Mario, con la sua capacità di comando e militare, a ottenere due vittorie decisive ad Acque Sextie e ai Campi Raudi, nel 102 e nel 101 avanti Cristo, nelle quali Mario annienta Teutoni e Cimbri, cambiando per sempre la storia del mondo e soprattutto dell'Europa occidentale, che forse senza Mario sarebbe stata germanizzata e avrebbe parlato lingue germaniche, anziché neolatine. L'altro protagonista di questo periodo è Silla, che ben presto diverrà il principale rivale di Mario, ma nel frattempo Mario, Silla ed altri importanti personaggi si troveranno a combattere la guerra sociale, nella quale la popolazione dei territori italici sottomessi chiede la cittadinanza romana. Mario e Silla vincono, ma la guerra fu estenuante e convinse i vincitori a concedere la cittadinanza romana ai vinti. Ben presto Roma si divise tra seguaci di Mario e seguaci di Silla. Quest'ultimo avrà la meglio in questo braccio di ferro e marcerà su Roma con una legione, suscitando scalpore e terrore tra i cittadini romani, tra questi anche il giovane nipote di Mario, costretto a fuggire in Asia minore, che passerà alla storia più di ogni altro romano, Gaio Giulio Cesare. Tempo dopo Silla muore e uno dei suoi subalterni, Pompeo, accresce il suo potere e il suo prestigio, insieme all'uomo più ricco di Roma, Crasso. Proprio Crasso e Pompeo si troveranno a dover combattere una guerra anomala quanto quella sociale, la guerra servile, provocata dal gladiatore ribelle Spartaco, che verrà domato da Crasso e Pompeo nel 71 a.C. Per essere corretti ricordiamo che questa fu la terza guerra servile, quella contro Spartaco, che in ogni caso è la più nota. Tempo dopo Gaio Giulio Cesare, tornato a Roma dopo la morte di Silla, si fece strada e intraprese una brillante carriera politica, diviene pontefice massimo, massima autorità religiosa romana e forma nel 60 a.C. il primo triunvirato insieme a Pompeo e a Crasso, che era un accordo politico, un patto di mutua assistenza, che avrebbe dovuto rafforzare le posizioni politiche e militari dei tre personaggi sulla scena romana, in modo anche da poter evitare ed eliminare eventuali avversari comuni ritenuti scomodi. Pompeo e Cesare avevano dimostrato di essere anche due brillanti condottieri, Pompeo per primo, conquistando diversi territori in Medio Oriente e in Asia Minore, e Giulio Cesare con le brillanti battaglie combattute soprattutto in Gallia, annientando anche l'esercito del re dei Suebi, Ariovisto, nella battaglia dell'Alsazia, Alsazia che era stata invasa dai Germani. Crasso si sentiva sotto questo aspetto l'anello debole del triunvirato e così decise di organizzare una campagna militare in Oriente contro i parti, ma egli, dopo una serie di decisioni avventate e sbagliate, venne sconfitto e ucciso dai parti nella battaglia di Carre. Nel frattempo Cesare intraprese nuove campagne militari in Britannia, dove ottenne vittorie che non furono decisive per la sottomissione dell'isola, e domò la rivolta dei Galli capeggiata dal capo degli arverni Vercingetorige, che si consegnò ai Romani dopo l'assedio di Alesia, episodio bellico nel quale Cesare mostrò tutto il suo talento e genio tattico militare, ma che costò centinaia di migliaia di morti fra i civili gallici. La Gallia divenne romana e vi restò per i successivi 500 anni. Cesare rientrò in Italia e venne imposto al condottiero di non varcare il fiume Rubicone, armato. Se avesse voluto tornare a Roma sarebbe dovuto tornare senza le sue legioni, varcare Rubicone sì, ma senza legioni. Ma Cesare non ascolta e marcia su Roma con le sue truppe. Il dado è tratto, disse, senza più crasso il triunvirato era finito, e Pompeo, anche a causa della morte della figlia che Cesare aveva dato in sposa all'amico, divenne un rivale, pur sempre rispettato da Cesare, che insegue Pompeo in Grecia e lo affronta in inferiorità numerica a Farsalo, dove nel 48 avanti Cristo Cesare sconfigge Pompeo, che fugge ancora in Egitto, dove verrà fatto uccidere dal re ellenistico Tolomeo, che verrà detronizzato dallo stesso Cesare, in quanto egli non approvò l'azione scorretta di Tolomeo nei confronti del vecchio amico Pompeo, e Tolomeo venne sostituito per volontà di Cesare dalla sorella Cleopatra, che diventerà regina d'Egitto e amante di Cesare. Tornato a Roma, Cesare accentrerà tutte le cariche più importanti dello Stato romano su di sé, diventando dittatore a vita, con poteri illimitati, nel 44 avanti Cristo. Ma nello stesso anno alcuni congiurati del Senato, non sopportando l'atteggiamento di Cesare, visto come tirannico e dispotico, decidono di assassinare il politico e condottiero nell'episodio che cambiò la storia e passò alla storia come le iddi di marzo. Ma Cesare, oltre che avere importanti sostenitori, era molto amato dalle sue truppe e dal popolo, e uno di questi sostenitori subalterni, Marco Antonio, si impegnerà insieme al giovane nipote di Cesare Ottaviano a cercare i responsabili dell'assassinio di Cesare, emanando le cosiddette liste di proscrizione, liste nelle quali vengono scritti i nomi dei congiurati e dei nemici di Roma, Cicerone compreso, che verrà ucciso, e chiunque poteva uccidere senza essere perseguito le persone iscritte nelle liste di proscrizione, in quanto dichiarate nemiche di Roma. Nel 43 avanti Cristo, Antonio, Ottaviano e Lepido, un terzo personaggio politico romano, formano il secondo triunvirato, che durerà fino al 33 avanti Cristo. Fra i congiurati vi erano Bruto, figlio adottivo di Cesare, e Cassio, che vennero sconfitti dai vendicatori nella battaglia di Filippi. Bruto e Cassio si tolsero la vita. L'anello debole del triunvirato è Lepido, che esce di scena dalla scena politica importante dello stato romano. Antonio si innamora di Cleopatra, lasciando la sorella di Ottaviano, che era stata data in sposa all'alleato, e si trasferisce in Egitto con Cleopatra. Nel frattempo, Publio Ventidio Basso, generale romano, annienta i parti nella battaglia del Gindaro, vendicando Crasso, ma subito dopo Marco Antonio tenta senza successo di invadere l'impero partico. Nel 33 avanti Cristo, sciolto il triunvirato, i due vecchi amici ora sono rivali, e la resa dei conti avverrà a Dazio, nel 31 avanti Cristo, dove Ottaviano ottiene una vittoria navale decisiva su Antonio e Cleopatra. Antonio e Cleopatra, tornati in Egitto, si toglieranno la vita. Nel timore di essere catturati vivi da Ottaviano, che divenne l'unico padrone di Roma, ma temendo di essere visto come un nuovo dittatore tiranno da molti senatori, come lo zio Cesare, si fa chiamare il Princeps, il primo fra i pari, sperando di ottenere, attraverso un'abile mossa propagandistica, il favore dei poteri senatori e il favore del popolo. Augusto ottiene così i pieni poteri e nel 27 avanti Cristo egli diviene il primo imperatore romano, ponendo fine al periodo repubblicano e aprendo una nuova fase, l'ultima, quella imperiale, nella quale Roma troverà il suo apice, ma anche il suo punto di declino. Augusto infatti diviene imperatore. Sua moglie era Livia Drusilla, che aveva già due figli da un precedente matrimonio, Druso e Tiberio, e ottiene un successo dopo l'altro, espande ulteriormente i domini romani, tanto che ad un certo punto decide di voler romanizzare anche la Germania Magna. I territori vengono conquistati dai brillanti figliastri Tiberio e Druso, ma quest'ultimo troverà la morte dopo una ferita procurata da una caduta da cavallo, dopo aver visto una misteriosa donna, una gigante germanica, che fece una profezia nefasta a Druso. La campagna non si ferma e Tiberio è sul punto di mettere in atto una manovra a Tenaglia che gli avrebbe consentito di sconfiggere l'ultima potente tribù germanica, i marcomanni, e sottomettere interamente una volta per tutte la Germania Magna, ma una rivolta in Pannonia costringe nel 6 d.C. Tiberio a rinviare l'atto conclusivo che avrebbe permesso, dopo anni di guerre, il completamento della conquista della Germania. La rivolta in Pannonia è durissima e Tiberio impiega tre anni a domare questa rivolta, e proprio quando arriva la notizia della vittoria in Pannonia e della pacificazione della regione, giunse la nefasta notizia della disfatta di Teutoburgo, un'imboscata nella quale un generale ausiliario romano, Arminio, figlio di un capo della tribù dei Cherusci, annienta tre legioni romane, comandate dal governatore Varo. Augusto fu scosso da questa notizia, ma nel frattempo egli rese Roma una città splendida. Egli si dice che amasse dire, ho trovato una città di mattoni, vi lascio una città di Marmi. Augusto morì nel 14 d.C. e con la successione di Tiberio ebbe inizio la dinastia Giulio-Claudia. Durante gli imperi di Augusto e Tiberio nacque, visse e morì Gesù di Nazareth, che al tempo era un villaggio della Galilea. I discepoli di Gesù, dopo la sua morte e secondo i Vangeli, la sua resurrezione, iniziarono a diffondere la parola di Cristo e una nuova religione. Questo fatto storico avrà, come vedremo, delle conseguenze enormi sulla storia di Roma antica e del mondo. In politica estera, Tiberio permise al figlio del fratello germanico di intraprendere una campagna militare in Germania, che permise il recupero delle aquile perdute dalle legioni annientate da Arminio a Teotoburgo e di vendicare l'onore di Roma, e permise una nuova penetrazione romana oltre il Reno. Ma Tiberio, forse geloso dei successi del nipote, ordinò la chiusura della campagna al nipote, che era convinto che con un altro anno di guerre anche la Germania sarebbe tornata definitivamente una provincia romana. Ma Roma e Tiberio ritennero che quelle terre non portavano alcuna convenienza e vennero abbandonate a se stesse, pur mantenendo relazioni con i romani. Tiberio inviò l'ingombrante nipote germanico in Siria e nel 19 d.C. egli morì in circostanze misteriose. Tiberio fu un buon amministratore, non molto amato dal senato. Alla fine Tiberio decise di ritirarsi nella sua villa di Capri, delegando i suoi poteri a un certo Seiano, che, sospettato di cospirare ai danni di Tiberio, venne fatto uccidere. Tiberio morì nel 37 e gli succedette l'ipote Caligola, figlio di Germanico, che regnò fino al 41. Caligola è ricordato dagli storici come un folle che compì una serie di atti immorali, un imperatore tiranno che contribuì ad alimentare terrore e azioni bizzarre, come la nomina a senatore del suo cavallo. Caligola venne assassinato dai pretoriani nel 41 e fino al 54 l'imperatore fu lo zio, figlio di Druso, Claudio, considerato da molti inadeguato. Si rivelò invece un brillante imperatore, capace di importanti opere pubbliche, come l'acquedotto Claudio, che contribuì a rendere più prospera e splendente Roma. Claudio fu capace anche di organizzare campagne di conquista in Britannia, che si conclusero con grande successo. Grazie a Claudio, infatti, la Britannia, in gran parte odierne Inghilterra, Galles e Scozia, vennero poi romanizzate. La conquista venne portata a termine anni dopo da altri condottieri, fra i quali Agricola, che giunse nel nord della Scozia. Claudio ebbe una vita privata difficile, prima con la dissoluta moglie Messalina e poi con l'altra moglie Agrippina e venne probabilmente fatto avvelenare proprio da Agrippina, per permettere al figlio Nerone di succedere al trono imperiale del marito. Nerone fu imperatore dal 54 al 68. I primi anni, complice anche la saggezza del suo maestro Seneca, furono buoni, ma ben presto Nerone si trasformò e divenne crudele. Durante il suo impero venne incolpato, qui ingiustamente, dell'incendio di Roma, ma colse l'opportunità di farsi costruire una residenza sontuosa, la Domus Aurea. Fece uccidere Seneca, la madre e la moglie, e divenne insopportabile a tutti. Costretto a fuggire, si tolse la vita nel 68 d.C. Dopo una guerra civile per la successione, che vide eletti quattro imperatori in un anno, prese il potere Vespasiano, che inaugurò la dinastia dei Flavi. Vespasiano fu un imperatore saggio ed equilibrato e nei dieci anni del suo impero Roma visse un periodo prospero e felice. L'imperatore fece costruire l'anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo, che venne completato dal suo successore, il figlio Tito, che fu imperatore per soli due anni, che furono comunque anni intensi. Infatti, durante Tito avvenne ad esempio l'eruzione del Vesuvio, che distrusse le città di Pompei ed Ercolano. La lava permise la conservazione, che ha consentito ai resti delle città di giungere in un ottimo stato, tale da poterci far capire molti aspetti della vita romana. Tito è ricordato come un imperatore buono, diverso è il discorso del più cinico fratello Domiziano, che fu imperatore dal 79 al 97 d.C. Domiziano fu in ogni caso un ottimo amministratore, anche se ottenne alcune sconfitte militari contro i daci, ma anche conquiste territoriali, gli agri decumates, che contribuirono a portare la frontiera dell'impero oltre il Reno e il Danubbio, confini naturali segnati dall'IMES, una linea di fortificazione romana lungo tutto il corso del Reno e del Danubbio. Domiziano morì nel 97 d.C. A Domiziano succedette Nerva, che morì nel 99, anno nel quale divenne imperatore Traiano, considerato da molti il più grande imperatore romano, insieme ad Augusto. Traiano mise in atto una vigorosa politica estera, che permise a Roma di sottomettere la temuta Dacia, l'attuale Romania, e di sottomettere gran parte dell'impero dei parti, di nuovo sconfitti duramente, dopo le sconfitte patite contro Ventidio Basso. Anche la capitale Ctesi Fonte venne conquistata. Traiano giunse addirittura a Babilonia. Non sarà l'unico imperatore a riuscirvi, ricordiamo anche Settimio Severo in seguito, ma egli voleva proseguire sulle orme di Alessandro Magno, ma l'età avanzata non gli consentì di esaudire il suo sogno. Le imprese di Traiano portarono oro e ricchezza a Roma, come non mai, e la città raggiunse il suo apice di potenza e splendore, anche in termini di territori, e l'impero raggiunse il suo apice anche in termini di espansione. Grazie all'oro delle campagne in Dacia, Traiano fece costruire grandi mercati e rese ancor più bello e duraturo e imponente il Circo Massimo, riempiendolo di marmi, stadio che arrivò a contenere 250.000 spettatori. Traiano morì nel 117 e fino al 138 l'impero fu nelle redini di Adriano, proseguendo il sistema adottivo della successione al trono inaugurato con Nerva. Adriano rinunciò ad alcuni territori conquistati da Traiano, la Mesopotamia sottratta ai parti, mantenendo la Dacia, ed egli intraprese una lunga serie di viaggi per conoscere meglio il territorio governato e ordinò la costruzione di un vallo in Britannia che doveva difendere i confini dell'impero, che passerà alla storia come il vallo di Adriano e sarà artifice di imponenti quanto splendide opere pubbliche, come ad esempio Villa Adriana a Tivoli, il Pantheon nella forma che è giunta ai giorni nostri, il Tempio di Venere in Roma e il suo Mausoleo che si trasformerà secoli dopo in Castel Sant'Angelo e rifugio e fortezza del Papa. Dal 138 al 161 l'imperatore adottivo fu Antonino Pio, 23 anni ricordati felici e prosperi, nei quali Roma è sul tetto del mondo e domina il mondo. Durante il suo impero Antonino amplia i confini in Britannia, spostando il confine più a nord, facendo costruire il vallo Antonino, anche se tempo dopo i romani si riattestarono stabilmente a sud del vallo di Adriano, che diventerà la frontiera stabile dell'impero. Nel 161 saranno due i nuovi imperatori adottivi, Lucio Vero e Marco Aurelio, fratelli che saranno impegnati entrambi in campagne militari, Lucio Vero contro i parti, che verranno nuovamente sconfitti, anche se un'epidemia di peste costringerà i romani a rientrare in patria. Lucio Vero morirà poco dopo e Marco Aurelio dovrà vedersela con i germani, in particolare Quadi e Marco Manni, che violano i confini imperiali, provando senza successo ad assediare Aquileia. Marco intraprende una lunga e faticosa campagna interrotta da alcuni problemi interni, la ribellione del subalterno a Vidio Cassio in Egitto, stroncata sul nascere e l'epidemia di peste passata alla storia come peste Antonina, in quanto Marco Aurelio faceva parte proprio della dinastia Antonina. Suo malgrado Marco passò gran parte del suo impero negli accampamenti militari delle sue campagne, ma amava molto di più la filosofia e fu un grande imperatore, capace di sconfiggere pesantemente Quadi e Marco Manni, arresi al volere di Roma, grazie alle imprese di Marco che morì nel 180, proprio mentre l'imperatore stava formando nuove province con i territori sottomessi e sottratti ai barbari. Marco forse fece un unico grande errore, interrompendo il sistema delle adozioni, designando come suo successore il figlio comodo, che per 12 anni si rivelò inetto e incapace e dedito solo ai divertimenti. Egli rinunciò alle conquiste del padre e nel 192 venne assassinato. La sua morte provocò una sanguinosa lotta per il potere, che terminò con l'affermazione di Settimio Severo, che divenne il nuovo imperatore nel 193, inaugurando l'ultima grande dinastia imperiale, la dinastia dei Severi. Severo intraprese brillanti campagne militari in Partia e morì mentre era impegnato ad espandere i domini romani in Britannia. A Severo succedettero i figli Caracalla e Geta, il secondo venne fatto uccidere dal primo, mentre il primo estese la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero. Fu un provvedimento popolare che al tempo stesso consentì allo Stato di aumentare il gettito fiscale. Caracalla venne assassinato e dopo brevi interruzioni il potere ritornò ai Severi, Elio Gabbalo, imperatore folle e Alessandro Severo, che morì nel 235 e fu l'ultimo esponente della dinastia dei Severi. Il 235 fu un anno cruciale per la storia di Roma, ebbe infatti inizio il periodo dell'anarchia militare, un periodo di profonda instabilità politica nel quale era ormai evidente che l'esercito faceva il bello e il cattivo tempo nello Stato, anche nel discorso della successione. Infatti gli imperatori venivano scelti dall'esercito ed erano quasi sempre comandanti militari. Uno di questi fu Massimino il Trace, che fu capace di annientare i germani ad Arzorn, sconfiggendoli nel cuore della bassa Sassonia. Gli storici raccontano che i germani si salvarono solo perché nascosti fra le loro paludi, altrimenti l'intera Germania sarebbe stata sottomessa da Massimino, che a dispetto del nome era alto oltre due metri, ma Massimino venne ucciso nel 238. All'anarchia militare coincise anche la crisi dell'impero del terzo secolo, crisi economica e finanziaria, che trovò il suo culmine con la secessione, indotta anche dalla cocente sconfitta dell'imperatore Valeriano contro il nuovo rivale a Oriente. Infatti a Oriente i Sasanidi avevano preso il posto dei parti e costituirono una vera e propria spina nel fianco per i romani, che vennero sconfitti dai nuovi rivali nel 260 nella battaglia di Edessa. L'impero subì una traumatica secessione, poco dopo, che sembrò irreversibile. Infatti vennero a formarsi due nuove entità politiche, l'impero delle Gallie e il regno di Palmira. Fu solo grazie ad Aureliano, uno dei più grandi imperatori della storia romana, che il peggio venne evitato. Aureliano infatti salì al potere nel 270 e si dimostrò un brillante generale, capace di sconfiggere i germani che avevano invaso l'impero, approfittando della debolezza che stava vivendo l'impero. E i germani vennero ricacciati oltre il Reno e il regno di Palmira, riannettendo i territori all'impero e catturando la regina Zenobia, donna dotata di fascino e di personalità, il cui marito odenato, nel frattempo fedele a Roma, aveva sonoramente sconfitto più volte i Sasanidi, vendicando le sconfitte di Valeriano. Dopo la riannessione dei territori a Oriente, Aureliano attaccò e sconfisse Tetrico del regno delle Gallie e riuscì nell'incredibile impresa di riunificare l'impero, anche se dovette rinunciare alla Dacia, territorio che l'impero non era più in grado di tenere. Ma egli riuscì a compiere un'impresa incredibile e introdusse il culto del Sol Invictus all'interno dell'impero in maniera stabile. Mentre si stava apprestando a intraprendere una campagna militare a Oriente contro i Sasanidi, Aureliano venne assassinato, ma fece in tempo a ordinare anche la costruzione delle mura aureliane, imponenti fortificazioni che dovevano proteggere Roma, che evidentemente, dopo secoli di sicurezza e tranquillità, iniziò a sentirsi minacciata da possibili invasioni. La morte di Aureliano fece ripiombare nel caos dell'instabilità politica a Roma, caos che si arrestò solo con la presa al potere di Diocleziano nel 284, che fu imperatore fino al 305, anno in cui abdicò, dopo aver contribuito a riportare una certa stabilità all'interno del potere, anche grazie alla creazione di un nuovo sistema di gestione del potere, la tetrarchia, pratica nella quale vi erano due augusti che eleggevano due cesari, che dopo venti anni passavano il potere ai cesari, che diventavano augusti e a loro volta gli augusti dominavano nuovi cesari. Gli augusti controllavano il territorio imperiale suddiviso in quattro parti. Ricordiamo in questo periodo anche le brillanti campagne militari di Galerio contro i Sasaniti, che vennero sconfitti questa volta dai Romani, e questo permise un recupero momentaneo della Mesopotamia. Diocleziano è anche ricordato per le pesanti persecuzioni nei confronti dei cristiani, che ormai erano sempre di più all'interno dell'impero, i seguaci di Gesù per molti il Messia, vissuto come detto in precedenza durante gli imperi di Augusto e Tiberio. Ben presto il sistema della tetrarchia entrò in crisi e si rivelò inefficace a contrastare le lotte del potere e gli usurpatori, le lotte del potere e gli usurpatori, e l'equilibrio venne spezzato soprattutto da Massenzio, che divenne imperatore dal 306 al 312. Anche se molti considerarono un usurpatore Massenzio, venne considerato l'ultimo imperatore che ebbe a cuore Roma, infatti egli costruì nuove opere repubbliche, come ad esempio il circo di Massenzio e la basilica di Massenzio, e cosa che molti non sanno, interruppe le persecuzioni dei cristiani, i quali vennero considerati non più fuori legge, ma nel 312 Costantino scese dalla Britannia con le sue legioni e sconfisse Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, grazie alla quale Costantino prese il potere e si spartì il potere con il suo antagonista del momento a oriente Licinio. Costantino emanò l'editto di Milano, con il quale venne stabilito che il cristianesimo doveva essere religio licita, e cioè religione lecita, e tempo dopo promosse un concilio a Nicea, nel quale vennero stabilite le regole di condotta comune per tutti i cristiani. Costantino riuscì a battere più volte il suo ex amico, che nel frattempo era diventato un rivale, Licinio, diventando così l'unico imperatore. Per molti egli si convertì al cristianesimo in punto di morte, ma continuò per tutta la vita a presenziare culti pagani. Egli spostò la capitale da Roma a Bisanzio, che prese il suo nome, Costantinopoli, che passò alla storia come la seconda Roma. Morto Costantino, vi furono lotte di successione, che portarono in stabilità, interrotta dall'imperatore Giuliano, che regnò fino al 363, per soli due anni, ma che prima dell'impero si distinzie per la brillante vittoria che salvò all'impero dagli Alamanni a Strasburgo. Giuliano passò anche alla storia con l'appellativo di apostata, in quanto egli tentò di ridare importanza e vigore ai culti pagani, ma nel 363, impegnato in una campagna contro i Sasanidi, venne ucciso in circostanze mai chiare. 15 anni dopo, nel 378, vi fu un evento che cambiò per sempre la storia di Roma e del mondo. Infatti, la tribù dei Goti, complici pericolosi movimenti degli Unni, fece a sua volta pressione sui confini dell'impero, che all'epoca era governato da due imperatori, Graziano a Occidente e Valente a Oriente. Ai Goti venne concesso di entrare all'interno dei confini e i funzionari del posto erano stati incaricati dall'imperatore di dar loro una sistemazione, ma i funzionari romani compirono una serie di sopprusi e azioni scorrette nei confronti dei Goti, che si ribellarono e reagirono. Pronti a dar battaglia, i Goti attesero l'arrivo dell'imperatore Valente, che non volendo attendere saggiamente anche l'arrivo di Graziano, decise di affrontare da solo i Goti, rimediando una cosciente sconfitta, che per il momento storico preciso vissuto le disponibilità di effettivi militari, si rivelò disastrosa per Roma, con conseguenze importanti. Infatti, se prima i barbari venivano accolti alle condizioni di Roma e romanizzati, ai Goti venne consentito di restare all'interno dei territori romani come federati dell'impero, mantenendo la propria coesione e la propria identità, senza essere radicalmente romanizzati come un tempo. Per molti la sconfitta di Adrianopoli fu l'inizio della fine. L'imperatore Teodosio concesse elargizioni ai Goti e dopo varie lotte interne riuscì a mantenere il potere e a riunificare l'impero sotto un unico imperatore, fino al 395, anno nel quale l'impero venne diviso tra i due figli di Teodosio. A oriente il nuovo imperatore fu Arcadio, mentre a occidente Onorio. Teodosio aveva anche una figlia, Galla Placidia, che si rivelò molto più capace del fratello Onorio, ma il figlio Valentiniano III, come vedremo, non sarà poi troppo diverso dallo zio. Onorio si rivelò ben presto un inetto e il suo impero coincise con l'inizio della fine della parte occidentale, che ben presto dovette rinunciare dopo oltre tre secoli di dominazione alla Britannia. Onorio perse altri territori e fece uccidere il generale Stilicone, di origini germaniche, che si era rivelato un abile militare, baluardo e difensore dell'impero, soprattutto contro gli attacchi dei Visigoti, che, con la morte di Stilicone, ne approfittarono e invasero l'Italia, giungendo alle porte di Roma, che venne saccheggiata dopo 800 anni di inviolabilità, in quello che passò alla storia come il sacco di Roma. Dopo la morte di Onorio, ricordiamo tra gli imperatori d'Occidente Valentiniano III, molto simile ad Onorio, anch'esso personaggio discutibile, che farà uccidere Ezio, considerato da molti l'ultimo grande romano, anche se di origini germaniche, che era stato capace di sconfiggere gli Unni, che nel frattempo erano penetrati nel cuore dell'Europa, comandati dal loro re Attila. Gli Unni avevano provocato terrore e devastazione, e soprattutto gli spostamenti delle tribù germaniche, sempre più spaventate dalla minaccia Unna, che subì a Chalons nel 451 una battuta d'arresto. La parte occidentale dell'impero però era ormai l'ombra di se stessa, tanto che Attila, nonostante la sconfitta, volle scendere in Italia nel 452, e solo, si dice, un provvidenziale intervento e incontro di Papa Leone con Attila nei pressi del fiume Mincio, scongiurò un altro saccheggio di Roma, che arrivò però tre anni dopo, ad opera dei vandali di Genserico. Nel frattempo andarono a formarsi sempre di più i regni romano-barbarici, entità nelle quali vennero costituiti nuovi regni, con nuovi padroni, nel segno di una pacifica, non sempre, coesistenza con l'aristocrazia e la popolazione romana esistente. Nel susseguirsi di imperatori fantocci nella fase finale dell'impero d'Occidente, sempre più nelle mani di generali barbarici che facevano il bello e il cattivo tempo, nell'impero dobbiamo ricordare due momenti precisi, nei quali si ebbero dei sussulti. Il primo fu durante l'impero di Maggioriano, considerato da molti l'ultimo romano degno di essere chiamato imperatore, il quale riuscì nell'impresa di riconquistare diversi territori, ma che fu fatto assassinare dal generale barbarico Ricimero, che lo iniziò a considerare troppo ingombrante e scomodo. E la coalizione tra impero d'Occidente e impero d'Oriente nella campagna contro i vandali per la riconquista di Cartagine, finita malamente nel 468 con la sconfitta di Capobon. In caso di vittoria molti storici ritengono che l'impero d'Occidente avrebbe potuto vivere un effetto domino talmente favorevole da far raggiungere la parte occidentale l'antico splendore non più raggiunto, ma otto anni dopo l'impero d'Occidente e la gloria di Roma ebbero termine con la deposizione dell'ultimo imperatore Romolo Augustolo. Sappiamo che l'impero romano d'Oriente durò altri secoli fino al 1453, ma la parte occidentale cessò di esistere nel 476, anno nel quale il re degli Eroli o Doacre rimandò le insegne imperiali dell'impero romano d'Occidente all'imperatore romano d'Oriente, dando inizio al Medioevo e al definitivo tramonto di Roma antica e della sua irripetibile e ineguagliabile storia.